Inizierò presto la visita pastorale nelle comunità della Diocesi. Questo è uno degli annunci fatti dall'Arcivescovo Riccardo Fontana in occasione del tradizionale incontro con i giornalisti aretini per la festa del loro patrono, San Francesco di Salla. Come ha precisato l'Arcivescovo, la visita sarà alle aree pastorali. In questo modo il presule riuscirà a raggiungere l'intero territorio diocesano. Fontana ha anche ringraziato gli operatori dei media per il grande servizio svolto durante tutto l'anno, invitandoli in Duomo per la novena della Madonna del Conforto. Spiegare bene che la novena della Madonna e la festa della Madonna sono una sorta di esercizi spirituali offerti a tutto il laicato della nostra diocesi. arriveranno tutti, zona per zona, a renderlo a Dio, a onorare la sua madre, la madre di Dio, che noi veneriamo col titolo di Madonna del Conforto, e a rinnovare la propria vita cristiana. L'Arcivescovo ha reso nota ai giornalisti anche che nel giorno della festa della Madonna del Conforto, primo venerdì di Quaresima, sarà in vigore una speciale dispensa per i fedeli aretini. Un bel modo di ricordare che durante i venerdì di Quaresima tutti i cattolici sono chiamati a non mangiare carne in spirito di penitenza. Il Papa, il primo venerdì di Quaresima, il giorno della festa della Madonna, ci ha dispensato dall'astinenza dalle carni, chiedendoci di commutare questo cesto di penitenza con un atto di carità, cioè accorgersi di quelli che hanno bisogno intorno a te.